cos'è? ha roba d'aria ha roba d'aria e poi è grossa anche mamma mia ragazzi vorrei essere lì in mezzo mamma mia questa è grossa davvero cos'è più vicino di prima? ma dove sta andando? ah non ho idea ma questa guarda cosa forza guarda lì sotto guarda lì sotto ma si avvicina a qui? questa è molto più grossa di quella di prima ma non guardare non si sta avvicinando qui spero di no ma guarda per terra guarda per terra questa è veramente grossa se c'è un sorriso dai mamma hai grossa di boiazza io ho tornato da questa urutto ah no è molto più vicino questa questa è molto più vicina si sono levati secondo me è già anzi sta arrivando qua sta venendo bene vedi che si avvicina eh si sta avvicinando questo sta venendo qua si si può fare si sta montando le finestre eh si esatto si sta proprio avvicinando qua vera si è grossa ma la struttura è ah si perchè sai ne vengono tipo 3-4 al mese allora siamo pronti allora mamma mia sta arrivando proprio qua sta arrivando no 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 io stavo pensando sto andando nel parcheggio e giri succhia le macchie eh magari così così grossa no però non si può sollevare cose di così di questa entità povera quando vedi passare le mucche che... però si vedono benissimo i detriti che sollevano eh si si vedono pezzi di qualcosa ma ragazzi questa è grossa davvero oh lo mandiamo oltre ai giornali ce lo facciamo pagare si guarda gli uccelli che non riescono guarda gli uccelli come come no povero no ragazzi è qua eh è davvero qua eh eh Marco sta passando qua sta passando